Ogni volta che vengo in Umbria torno a casa più carico, ci sono energie, giovani, imprenditori, agricoltori assolutamente eccezionali, io porto a casa un po' di compiti da fare, infrastrutture, quindi vuol dire 45, 78, ferrovie da rilanciare, qua nessuno chiede assistenza, aiutini, redditi, cittadinanza, opportunità, logistica, trasporti, viabilità, sicurezza e lasciare libere le imprese di fare grande l'Umbria e quindi ci rivediamo presto, io ringrazio tutti coloro che ho incontrato oggi e che incontrerò nelle prossime settimane, sono orgoglioso di quello che donne e uomini stanno facendo nei comuni che amministriamo in Umbria e nella regione che ben governiamo.